Dopo il muro contro muro delle scorse settimane si riapre la linea di dialogo tra la NM e i sindacati per assicurare un prolungamento delle corse per Natale e per la festa di Capodanno. Sul tavolo delle trattative tornano per l'occasione anche vecchie vertenze relative ad alcuni adeguamenti economici che i lavoratori attendono da tempo. Al momento è stato raggiunto un accordo di massima fortemente caldeggiato da Palazzo San Giacomo per non lasciare a piedi i napoletani e i turisti a Natale e soprattutto nella notte di San Silvestro quando sono attese migliaia di persone tra il concertone in piazza del Plebiscito e il DJ set sul lungomare ma anche per venire incontro alle stanze dei lavoratori che chiedono le indennità arretrate delle ferie, l'omogenizzazione ed etichetta 7 euro per tutti i lavoratori a partire dal primo gennaio e da rivedere aumentandone l'importo a partire da marzo del prossimo anno e infine il riconoscimento di 150 euro nella busta paga di dicembre. Su queste basi i sindacati hanno dichiarato la loro disponibilità a firmare l'accordo senza alcun vincolo riguardo i prolungamenti dei servizi natalizi. I lavoratori su base volontaria potranno decidere se essere impiegati a Natale e Capodanno. L'azienda è pronta a pubblicare una manifestazione di interesse rivolta ai dipendenti.